Bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video in cui oggi vi farò praticamente vedere come cambiare praticamente il vostro sfondo Questo qua tipo come vedete qua perchè certe persone ragazzi ce l'hanno con il blu rosso giallo verde Vabbè andiamo avanti praticamente dovete andare vabbè qui sotto lo sfondo coso qua dobbiamo andare su cerca internet però vi dovete prima connettere al vostro wifi perchè sennò praticamente non funzionerà Allora vabbè dopo che voi farete faccia di mezzo del coso la del wifi riconnettere a anderti su cerca internet scrivete tipo batman quello che volete voi tipo fallout, gta e anche altre cose tipo lughi di praticamente di youtuber Ok andiamo su qui immagini e andiamo su immagini che volete voi allora io scegliamo questa qui a caso voi potete scegliere quella che volete No Cos'è? Cos'è? Vabbè cominciamo dai batman Vai batman Tutti noi batman Tutti noi Potete anche scegliere tipo i lughi dei vostri youtuber preferiti Umor agno C'è umor agno Andiamo qua Qui Personaggio No 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 Ok aspettate tipo scegliamo questa qui a caso Però deve comparire grande Ok No vabbè mo mi cazzo No praticamente a mezzo non mi fa comparire tipo schermo gta No 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 Vediamo se funzionerà Perché io ho fatto così ragazzi poi No vede Ok andiamo su immagini Scegliamo Cazzo Ero Ok Tipo scegliete questa qui foto Ci sta niente di foto No ci sta niente di foto No ci sta niente di foto No No vabbè raga Io vi ricordo che funziona Ma dovete andare su Cazzo di immagini Si Ah Ah E mettiamo una qua Tipo questo Vediamo se funzionerà Guarda Mmm Praticamente quel simboletto sembra praticamente la mosca che sta volando sembra ma è il coso e più giù giù e mi fa comparire lo adingo e poi ragazzi dopo che ci è andata la foto enorme allora andate su ragazzi spingete triangolo per aprire praticamente questa questo menu a tendina qua e andiamo su praticamente dovete andare sui fail qua fail fail e dobbiamo praticamente spingere la freccetta a destra e vi comparirà questo secondo meno a tendina e voi andate salva immagine ci dovrebbe stare spazio archivazione vai andrà fino a 100 attendere sta clip salvata quindi andiamo fuori poi andiamo di nuovo su come si chiamano qua nuovo 2017 e vi compare questa ragazzi e vi compare questa come metterla allora visualizza vabbè qui sono tutti in performa ragazzi potete mettere potete anche praticamente metterla qui è normale dispositiva io voglio mettere soltanto gt a grande tanto ok ritagliamola e diventa così finissimo bene 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 poi andiamo ecco a modalità di visualizzazione andiamo 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 a metterla me l'ha messo? no non me l'ha messo momi il cazzo di nuovo ah galleria ecco no momi il cazzo di nuovo non è questo no momi il cazzo no rega momi il cazzo madonna oh finalmente no madonna stampa oh andiamo su qua in bosco messo oh finalmente ragazzi finalmente spero che questo video vi sia piaciuto anche per me lo sclero e ragazzi ci vediamo al prossimo video però mi sa che lo farò domani mi sa su un detran oppure lo farò oggi su un detran vabbè non lo so ve lo metterò in descrizione ciao bello 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 bello